ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo video vi voglio parlare delle pagelle di juventus verona la prima serie delle pagelle della nostra juventus e poi io voglio parlare del derby prima di tutto vi parlo del derby da questo derby mira inter io dico che il sanno l'inter può vincere lo scudetto e l'inter da scudetto dai non dubitiamo il cazzo noi diciamo che l'inter non sia da scudetto anzi lo so ne come se vissi in campo un 2-0 dell'inter ha giocato meglio del miran in miran non c'è a parte che mira non c'è dunque diciamo che sia un 2-0 piuttosto meritato per l'inter beh dopo tutto si può dire che questa inter è da scudetto e noi dobbiamo stare attenti sia l'inter che a napoli lo dico da luglio ok adesso parliamo delle pagelle di giuventus verona buffon sette e mezzo nonostante aver preso il gol davvero sotto l'incorcio non ci è riuscito a prenderlo ha fatto tante parate e si è dimostrato quel gran bottiere che è ancora 41 anni da nero 6 ha fatto il suo compitino fatto le sue solite giocate se solite cose solita partita ha riuscito a qualche buco a volte quindi lo sei bonucci 7 1 c7 aveva dato sei mai i due sette i due sette perché ha coperto bene ha difeso molto bene ha organizzato una buona manovra di gioco di miran 6 ci vuol comune di darebbe cinque cosa del rigore di verona ma ci può stare e la sua prima partita con una squadra grande quindi io qui lo sei ha fatto una buona partita alessandro sei e mezzo il dolce e mezzo perché ha fatto ha creato qualche buon cross creato qualche buona azione su una fascia quindi è stato molto partecipo molto partecipante ramsay 7 ramsay 7 a parte il gol che ha fatto si è dimostrato già un gran giocatore da juve si inserisce sempre si inserisce la maggior parte delle volte che superiorità numerica è bello anche di quello dei centocampisti tu ramsay ti ricordi se veramente un grande centocampista bentancur 5 e mezzo una partita bruttina da parte di bentancur non si è dimostrato ancora quel gran c'è ha fatto grandi errori ha sbagliato tanti parone sinocampo è vero non ne ha beneficiato tante volte meno male che non abbiamo preso un gol su quello il cazzo ma tu e di 7 si è visto un gran matri di ieri nonostante qualche affanno inizio poi però piano nella partita si è preso tempi di inserimenti e gran partita la parte di manuti poi quadrato 7 e mezzo quadrato 7 e mezzo perché non so il rigore causato ma è stato molto ha sfruttato molto la fascia destra e ha creato tante volte superiorità numerica grande quadrato di bar 7 qualcuno ha dato 6 e mezzo se io ridò 7 perché ha dimostrato sempre di esserci in campo ha fatto salire sempre la squadra e quel tunnel il giocatore di verona grandissimo lo raddo sette e mezzo e ha vedato otto però che vuole che causato che ha causato sul gol di verona di lo sette e mezzo la velo e quello poteva gestire meglio il pallone per la fase la squadra mesi poi ha causato ha creato tante occasioni da gol e ha creato anche e ha segnato anche rigore del 2 a 1 o decisivo per la fattita di ieri quindi grande ronardo sui cambi pjanic 6 ha sbagliato anche pallone ma è sembrato un buon metrò montecindocampo ha fatto tanti passaggi anche giusti anche giusti quindi 6 che via 6 si è visto poco una mezz'ora finale 20 ma la 20 minuti però ho fatto una buona partita Iguain 6 fatto salire la squadra nel momento giusto e ci serviva una punta di peso che facesse salire la squadra comunque ragazzi con questo è tutto vi auguro una buona romeca è un grande abbraccio e fino alla fine forza juventus ciao ragazzi